E veniamo agli ultimi tre liquidi di casa History Mode Ok? Vediamo gli ultimi tre tabacchi distillati e nello specifico vediamo l'Oriental, l'American Blend e il Peric Ed eccoci quindi agli ultimi tre liquidi di questa linea composta da sette tabacchi di casa History Mode Linea molto particolare, vi invito ad andare a vedere sia il primo che il secondo video Nel primo video ho fatto una super mega introduzione delle caratteristiche di questi liquidi così sarete a conoscenza di tutte le caratteristiche del perché questi liquidi sono così Nel secondo video sono stato un pochino più stringato ma ho dato delle altre informazioni molto importanti Oggi sarò super stringatissimo nell'introduzione Sono liquidi tabacosi distillati che non utilizzano PG volontariamente per tutte quelle persone che sono allergiche ma che usano un'acqua profumata Acqua che va mischiata a Total VG per andare a preparare i liquidi Questo però che cosa comporta? L'utilizzo dell'acqua comporta una vischiosità molto fluida del liquido che potrebbe andare a compromettere l'utilizzo dei liquidi stessi in alcuni sistemi Andando in sovralimentazione, allagandosi e gorgogliando Dall'altro lato quest'acqua fa sì che non si riescano a percepire tanto le note di corpo del liquido Ma quest'acqua profumata nel momento in cui viene vaporizzata esalta totalmente tutte le note di testa di un liquido che vengono proprio esplose in bocca ma che poi si dissolvono molto velocemente non regalandovi quello che è la persistenza aromatica del corpo del liquido Persistenza che avviene naturalmente dal PG Qui il PG non c'è però allo stesso tempo è un'ottima e una validissima alternativa Per tutte quelle persone che non possono utilizzare il PG perché allergiche e di conseguenza l'unica alternativa è continuare a fumare a quel punto ecco che ci sono i liquidi in acqua Vanno secondo me un pochino migliorati ma secondo me l'azienda sta già lavorando in questo senso Noi abbiamo sempre dato per scontato che per fare i liquidi ci vuole PG e VG E fine Questa azienda sta cercando di esplorare altri composti Altri modi per utilizzare, vaporizzare i nostri liquidi Magari senza l'utilizzo per forza di entrambe queste materie prime Proprio perché ci sono persone che magari ne sono intolleranti E secondo me chissà che in futuro non si riesca a trovare anche qualcosa di diverso Che sia buono o uguale ai nostri attuali liquidi Ma che dia una possibilità di essere utilizzati a tutti Quindi oggi vediamo nello specifico come detto Partiamo con l'American Blend American Blend che mi è piaciuto Al netto però di tutta l'anticipazione che vi ho già fatto prima E che vi ho fatto nei precedenti video American Blend che mi è piaciuto L'esplosione di note di testa è piacevole Perché ci sono dentro gli orientali Quindi la parte di tabacco orientale si sente Si sente bello spigoloso Mi mancano un po' le altre note Che sono quelle del Virginia e del Barley Che poi vanno a comporre un American Blend Siccome nel video precedente dove ho parlato del Virginia e del Barley Vi ho spiegato perché non si sentivano così bene quei due liquidi Proprio perché sono due liquidi totalmente di corpo Che non hanno grandissime note di testa Ecco che qui invece perlomeno spicca quella parte orientale E quindi il liquido ha un sapore ben deciso e ben definito Per quanto riguarda l'orientale Vale lo stesso identico discorso che ho appena fatto per l'American Blend Le note dell'orientale si sentono veramente bene Da più il sentore di un tabacco turco Un po' cupo, un po' strong, un po' tosto Rispetto magari appunto ad un tabacco orientale Quindi a quello che magari possiamo pensare come speziatura Quindi non aspettatevi uno speziato Ma aspettatevi piuttosto un robusto In entrambi questi liquidi Siamo l'American Blend che nell'orientale Si sente sempre quel retrogusto un po' dolciastro Ma come già detto nei precedenti video Non so se imputare questa lieve dolcezza al tabacco Oppure se imputarla naturalmente alla quantità abbondante Che c'è di VG per andarli a preparare Perché sono liquidi molto particolari Non vanno preparati con le basi tradizionali Con le basi classiche Ma andatevi a vedere il primo video Dove vi spiego come vanno preparati E infine il Peric Ecco il Peric di tutti questi set Che abbiamo visto e che ho provato fino adesso Il Peric devo dire che è quello che mi ha deluso un po' di più Mi ha deluso un po' di più Ma secondo me non per qualità del Peric Non per la qualità del liquido Ma perché qui secondo me vengono fuori Proprio tutte quelle che sono le perplessità Nella costruzione del liquido Il Peric non ne ho svapato tanto Inizio a mettere mani avanti Non sono un frequentatore assiduo di quel tipo di tabacco Ne ho svapato 3-4 tipi diversi di Peric Più o meno Quindi non l'ho svapato moltissimo Però la cosa molto particolare del Peric Che mi ricordo durante la svapata Era proprio questa carica forte Decisa in bocca Sia di parte tabaccosa Che di parte chiamiamola fruttata Però è più una macerazione della frutta Perché? Perché il tabacco Peric Ha una fermentazione molto abbondante Ha un trattamento molto particolare Per poi essere lavorato Essiccato e utilizzato Però diciamo che è un tabacco Molto 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 fermentato Quindi questa fermentazione Tira fuori delle note molto acide Tira fuori delle note molto pungenti C'è tutto l'acidulo in bocca Sentite tutto A tratti delle note molto molto amarognole Nonché anche dei sentori molto cenerini Perché è comunque un tabacco strong Un tabacco deciso Qui vengono fuori i limiti dell'acqua E la mancanza di PG Tutte queste note Che sono note molto particolari Fanno fatica a sentirsi Quando si vaporizza Le note di testa Che ti esplodono in bocca Sono delle note un po' confuse Perché hanno talmente tanto poco tempo Per esplodere in bocca Che non si riescono a percepire Assolutamente le note Non si riescono a distinguere Ad assimilare E non si riescono neanche a godere Mentre gli altri sono comunque dei tabacchi Costruiti bene Con le limitazioni dell'acqua Però in bocca Si percepiscono Si sentono Si identificano Qui non si ha secondo me Il tempo di identificarlo Quindi la mancanza di PG In questo liquido Secondo me si sente E si sente tanto Però sono sicurissimo Che questa strada Che ha intrapreso HistoryMod Sarà una strada Che li porterà A scoprire Cose secondo me Molto interessanti Cose che faranno bene Anche a noi svapatori Cose che faranno bene Un po' al settore La strada intrapresa Da questa azienda Secondo me È una strada Molto molto interessante Allo stato attuale Ripeto Sicuramente liquidi adatti A chi è totalmente allergico Al PG E che quindi La sua alternativa È fumare Piuttosto che fumare Assolutamente Liquidi senza PG Mentre per tutti i classici Fruitori di liquidi In VG E PG Faranno secondo me Fatica un po' Ad assimilarli Faranno fatica Ad assorbirli Proprio come concezione Come vaporosità Come aroma Come Vischiosità Eccetera Eccetera Questo era tutto Per il video di oggi Abbiamo terminato La linea di Sette liquidi Distillati Di casa HistoryMod Li abbiamo visti Praticamente tutti Mi raccomando Vi invito di nuovo Ad andarvi a vedere Anche i due video precedenti Non solo quest'ultimo Per capire La totalità E la complessità Di questi liquidi Insomma Per capire A 360 gradi Quelle che sono Le particolarità Di questo liquido Se fanno al caso vostro Oppure no Insomma Questo è tutto Per la video recensione di oggi Spero che il video vi sia piaciuto Noi ci vediamo presto Per una nuova video recensione E come al solito Vi auguro Una buona giornata E una buona vita a tutti